Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Prima News Focus, il nostro rotocalco di informazione quotidiana che come sempre va a portare nelle vostre case tante notizie, informazioni e curiosità. Nella puntata di oggi ci occuperemo di un progetto molto particolare ce lo faremo raccontare direttamente dal suo ideatore. Sto parlando di Alessandro Azzolina, assessore all'istruzione ecologia integrale della città di Nichelino. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito, buonasera a tutte e a tutti. Allora diciamo che queste sono solo alcune delle deleghe perché in realtà ti occupi di molto di più però in particolare per quanto riguarda il progetto di cui parleremo oggi direi che queste due deleghe riassumono un po' l'anima di questo progetto che si chiama Non seguire il gregge. Vedremo delle immagini che raccontano molto bene questo progetto ma di che cosa si tratta? È un progetto che in realtà parte da un'esigenza molto molto pratica con la quale tanti amministratori fanno i conti che è la manutenzione del verde, quindi il taglio dell'erba e in particolar modo parliamo del taglio dell'erba all'interno delle scuole. A noi è venuto in mente di poter unire un elemento educativo con un elemento manutentivo e quindi far fare questo taglio dell'erba, far manutenere il verde all'interno delle scuole cittadine da dei alleati un po' particolari, delle pecore. È da qui il nome Non seguire il gregge. Quindi delle pecore sono state scelte, incaricate appunto di questo taglio dell'erba. Diciamo che i vantaggi, se vogliamo dire così, sono sicuramente tanti. Un vantaggio è che loro dovrebbero mangiare comunque, quindi il fatto che mangino all'interno di un cortile di una scuola oppure in un campo per loro non fa differenza. Per una città, anche immagino per il budget di una città, sia sicuramente importante. Poi le pecore non le devi programmare. Loro sanno già quanto devono accorciare del prato su cui brucano, no? Esatto, il taglio è diciamo perfetto rispetto a quello che deve essere un taglio che non va a ledere eccessivamente quello che è il terreno perché laddove l'erba deve crescere è giusto che continui a crescere ma come dicevi anche tu è davvero un progetto sul quale vincono un po' tutti perché vincono le scuole che trovano il verde appunto manutenuto ma vincono i stessi pastori che devono avere soprattutto di questi tempi di cambiamento climatico, dei pascoli freschi, dell'erba fresca dove brucare appunto l'erba e vincono soprattutto, io ritengo, gli insegnanti e i studenti e le studentesse che possono in questa maniera anche approcciarsi a un mondo un po' antico, un po' dimenticato ma che riteniamo abbia davvero ancora tanto da dire dal punto di vista educativo. Ecco, concretamente come funziona questo progetto? Voi avete, vi affiderete a degli agricoltori, come avete raccolto tutte le forze e stretto tutte le collaborazioni che serviranno poi fattivamente per questo progetto? Noi ci siamo avvalsi in questo caso della collaborazione straordinaria dell'Associazione Stupini GE e del suo presidente Ernesto Bertola che è un agricoltore, ma gli agricoltori molto spesso non sono solo agricoltori sono veri e propri valorizzatori paesaggistici e delle culture tradizionali che rischiano di andare perdute. In particolar modo l'Associazione Stupini GE svolge questo ruolo straordinario di unione di tutti quanti gli operatori che insistono nel concentrico straordinario della palazzina di caccia di Stupinigi, bene tutelato anche dall'UNESCO e loro stessi come associazione si occupano di mettere in contatto noi ente, quindi noi comune, con dei giovanissimi pastori in questo caso perché sono giovani pastori poco più che ventenni che hanno deciso di portare avanti la tradizione di famiglia. Ecco, invece per quanto riguarda le scuole, so che adesso per esempio nel video che sta scorrendo è stato quello inaugurale, da poco è partito questo progetto quindi in particolare lì eravamo in quale scuola? Lì eravamo nei due istituti superiori della nostra città, quindi l'Erasmo da Rotterdam e il Maxwell di Nichelino. Coinvolgerà invece altre scuole del territorio? Esatto, perché è partita la sperimentazione in collaborazione con Città Metropolitana che ringrazio e che ha la titolarità anche appunto delle scuole superiori. Il progetto proseguirà invece l'intenzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado proprio perché accanto a questo progetto di manutenzione con la scusa del contatto con l'animale, un contatto con l'animale così fuori dall'ordinario ai bambini verranno anche proposti da parte dell'amministrazione comunale quindi poi anche dai loro insegnanti alcuni laboratori molto pratici, molto specifici che li riconnettono con quello che è appunto un po' il tema della campagna e della sostenibilità alimentare, quindi consumo critico e consapevole e della sostenibilità anche ambientale e ecologica. Ecco, perché questo titolo, non seguire il gregge? Invece dovremmo un po' seguirlo, nel senso prendere magari più esempio da questi animali che sono ecologicamente forse più sostenibili di noi. Esattamente, infatti l'intelligenza dell'animale che nel seguire il gregge come dire riesce a tenersi compatto, a non perdersi è un elemento virtuoso in natura e per il pascolo e per il pastore quindi per l'economia anche dell'azienda ma l'evocazione di non seguire il gregge indica la necessità di riconnetterci anche un po' a un'alimentazione che guardi alla filiera produttiva corta o cortissima appunto a chilometri zero e che i bambini e le bambine innanzitutto capiscano quali sono i processi produttivi di trasformazione del cibo e attraverso dei progetti specifici che riguardano il formaggio lo yogurt e il gelato in particolar modo imparano anche a non seguire il gregge del cibo industriale cioè quello al quale molto spesso appunto ci affidiamo la grande distribuzione per andare a cercare un cibo magari di prossimità e quindi anche eticamente ma anche dal punto di vista salutistico sicuramente migliore Quali sono dal vostro punto di vista le potenzialità di questo progetto ma anche ad una scala un po' più ampia immagino? Abbiamo già appunto avviato l'interlocuzione con Città Metropolitana che racchiude nel suo compito un po' quello di coordinare appunto centinaia di comuni di quella che era la provincia perché questo progetto ha già suscitato molto interesse anche in comuni limitrofi e non solo siamo stati contattati per esempio da docenti universitari della facoltà di Agraria con i quali abbiamo intavolato un discorso e da quel discorso sta nascendo per esempio un primo momento più convegnistico tecnico-scientifico per analizzare e inquadrare un progetto di questo tipo in chiave ecosistemica e quindi in chiave ecosistemica far atterrare questa progettualità di manutenzione ma anche di educazione in territori adattando però questo progetto alle esigenze specifiche del territorio sul quale appunto atterra non volendo fare sempre quella che fa i conti in tasca ma visto che in questo periodo purtroppo storico anche i conti vanno tenuti ovviamente d'occhio voi avete calcolato quanto si potrebbe risparmiare eventualmente nella manutenzione di un comune se si utilizzassero questi operai così in particolare più in larga scala vi siete fatti un'idea? ma ci siamo fatti un'idea soprattutto in questo momento di aumento di caro prezzi anche rispetto ai carburanti quindi rispetto all'utilizzo per esempio di mezzi a scoppio per il taglio dell'erba immaginate che soltanto in una città come Nichelino in una città di circa 50.000 abitanti abbiamo oltre 22 edifici scolastici con annessa area verde e ogni taglio, ogni sfalcio comunque sono centinaia di euro che vengono impiegate ma abbiamo oltre che un risparmio dal punto di vista dei costi appunto di questo servizio è indubbio che abbiamo anche un risparmio dal punto di vista dell'impatto ecologico per esempio che ciò può portare non solo perché sappiamo che le pecore brucano, pascolano e le deiezioni poi anche delle pecore contribuiscono oltretutto a fertilizzare il terreno il terreno che quindi come dire può vivere anche di una bio del quale può essere terreno di cultura anche di biodiversità e in questo senso per esempio avere un'alleanza ecosistemica per esempio con gli insetti impollinatori che sono così importanti per noi e che come sappiamo purtroppo stanno scomparendo Un'altra cosa che sicuramente desta curiosità almeno personalmente l'approccio dei ragazzi dei bambini nei confronti di questi animali per esperienza sappiamo che purtroppo i bambini si trovano a avere contatto diretto con animali come possono essere le pecore sempre meno le conoscono loro conoscono questi animali oppure si sono trovati quasi come dire di fronte a una novità che per loro ha insegnato qualcosa in più anche solo proprio sulla non soltanto dal punto di vista ecologico ma proprio nel conoscere specie magari di animali che prima facevano parte della nostra vita erano nelle nostre case le galline le pecore tutti questi animali da cortile Ma la pastorizia stessa faceva parte fino a non molti anni fa davvero dell'antropologia del nostro popolo faceva parte della cultura della tradizione e oggi sappiamo come la pastorizia in sé sta rischiando di scomparire gli alpeggi si svuotano e fortunatamente ci sono nuove generazioni che stanno cercando di tenere vive queste che oltre che essere filiere produttive sono innanzitutto protezione di una tradizione culturale storica che fa parte della nostra identità italiana le bambine e i bambini ma anche le ragazze e i ragazzi come dicevi giustamente tu molto spesso non hanno mai neanche visto dal vivo una pecora e lo stiamo vedendo nelle reazioni di questi giorni delle ragazze dei ragazzi degli istituti superiori che si approcciano con grande curiosità e talvolta chiedono anche informazioni agli insegnanti per esempio di scienze nel raccontare loro come dire qual è l'interazione uomo-animale rispetto agli ovini rispetto ai caprini e qual è il sistema di pascoli che adesso sussiste e quindi anche un modo per riconnetterci con una tradizione storica una memoria storica di cui oggi abbiamo credo bisogno per ampliare un po' il discorso quindi questo ovviamente è un progetto che rientra in un progetto immagino più ampio che l'amministrazione cittadina della città di Nichelino ha per quanto riguarda le scuole la crescita anche la consapevolezza dei ragazzi nell'ambito non solo ambientale ma anche della legalità ecco che cosa si sta facendo a proposito? Lo sforzo è questo di avvicinare in tutti i modi con laboratori che siano più esperienziali possibili i bambini e i bambini i ragazzi le ragazze delle scuole alla terra alla natura all'elemento campagna crediamo che gli elementi questi elementi siano imprescindibili nello sviluppo armonioso appunto dell'individuo e che questi elementi oggi non abbiano a che fare con il futuro del nostro pianeta e allora da questo punto di vista sono tante le progettualità che anche in città stiamo portando avanti una su tutte che in qualche maniera fa un po' il palio con questa qua del greggio da non seguire è il progetto di panificazione che portiamo all'interno delle scuole attraverso un forno a legna che portiamo fisicamente all'interno di tutte le scuole della città dove i bambini e le bambine imparano a piantare seminare il grano a raccoglierlo poi attraverso una macina macinarlo trasformarlo in farina poi in impasto cuocerlo e completare così poi il processo attraverso la pagnotta appena sfornata questo anche ha un valore pedagogico molto importante elemento appunto di trasformazione di manipolazione del cibo ma è un elemento anche culturale di nuovo di riconnessione alla terra e ai ritmi naturali che fin da bambini bisogna imparare a rispettare per arrivare così alla conclusione di questo nostro approfondimento mi viene una riflessione Nichelino che è una città di cintura come si dice negli anni in passato si era guadagnata questo titolo di città dormitorio della Fiat perché tanti cittadini emigrati per esempio dalle regioni del sud Italia avevano trovato proprio qui il luogo in cui andare a dormire dopo che lavoravano in fabbrica una classificazione sicuramente un po' relativa e sicuramente discutibile Nichelino credo che sia invece una città che vuole maggiormente imporre la sua identità in che modo sta lavorando proprio per avere una sua identità forte e concreta e attrattiva effettivamente quello che era un retaggio industriale oggi post-industriale che faceva dire ingenerosamente a Nichelino come città dormitorio a chi non la conosceva poi direttamente oggi possiamo dire che proprio questa forte migrazione che c'è stata negli anni 70 80 e in particolar modo dal sud Italia ma non soltanto dal Polesine e d'altre regioni d'Italia oggi rappresenti un po' davvero il punto cardine il punto di forza attraverso il quale questa città credo oggi sia davvero viva fiorente e sia laboratorio sociale oltre che culturale questo perché il progetto che tiene dentro un po' tutto sia l'elemento di istruzione che dell'elemento di ecologia che abbiamo portato avanti nell'ambito del mio assessorato assieme al sindaco della città Gian Piero Tolardo si chiama Nichelino Fertile e la fertilità ce la insegna appunto la natura la fertilità l'abbiamo laddove vi è biodiversità dove c'è diversità c'è arricchimento della terra c'è arricchimento quindi anche della società il fatto che a Nichelino proprio in forza di quell'emigrazione fossero rappresentate e siano rappresentate tutte le province d'Italia per esempio ha fatto sì che davvero si costruisse un terreno socialmente fertile che oggi indubbiamente indiscutibilmente fa di Nichelino una città fiorente dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista dell'elaborazione della sperimentazione sociale bene allora direi che possiamo concludere così verremo magari a visitare una delle prossime diciamo messe in opera anche di questi operai del verde di Nichelino per documentarlo anche ai nostri telespettatori io ringrazio davvero Alessandro Azzolina assessore all'istruzione e ecologia integrata integrale integrale della città di Nichelino grazie davvero per essere stato qui con me oggi e per aver raccontato questa bella esperienza questo progetto ai nostri telespettatori grazie grazie a te e grazie faccio un saluto anche a tutti voi che ci avete seguito da casa vi do l'appuntamento alla prossima puntata arrivederci grazie a tutti